Innanzitutto vorremmo salutare tutti voi. Grazie mille a Casa Laiolo, a Alberto e Valeria di Vecchi, a Elena Canero, all'Associazione Corona Verde di San Vito e alla Cappella di Santa Elisabetta per l'ospitalità data al nostro quartetto. Siamo il quartetto Affinity e veniamo dall'Australia. Siamo Nicholas, Joanna, William e io mi chiamo Mina. Siamo arrivati direttamente da Melbourne, Australia per un tour di sei settimane in Europa che ci porterà anche a Milano, Venezia, Salzburgo, Lubeca, alla Biennale del Quartetto Daki di Amsterdam e a Londra. Questo è il nostro primo concerto del tour e questa è la nostra prima volta a Fiosasco. Stasera condividiamo con voi due opere classiche. La prima è il Quotezatz di Franz Schubert, in cui ascolterete brani di una drammaticità intensa alternati ad altri di gioiosa luminosità. Dopodiché suoneremo il sedecettimo quartetto Daki di Mozart, composto da quattro movimenti in cui il musicista illustra una conversazione tra ragione, amore, umorismo e bellezza. Ci auguriamo che questo programma musicale vi piaccia.